Siamo a Milano per un incontro con la stampa che ha fatto il punto sul ruolo di prevenzione cardiovascolare degli Omega 3, dei farmaci che sono disponibili in terapia da quasi 20 anni e sui quali la ricerca continua anche con risultati interessanti. In questo ambito la ricerca italiana ha svolto un ruolo di primissimo piano e noi ne parliamo con il professor Luigi Tavazzi, direttore scientifico del gruppo GVM Care, un gruppo che raggruppa circa 20 ospedali in Italia, dove il professore si occupa appunto della ricerca scientifica. Senta professore, qual è il ruolo appunto che ha svolto l'Italia nella ricerca sugli Omega 3? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto tantissimo in realtà. Abbiamo fatto tanto, quando dico abbiamo intendo la comunità cardiologica nazionale, tanto sulla ricerca cardiologica in generale riguardo alle due aree principali che sono l'infarto miocardico e lo scompenso cardiaco e in entrambe uno studio, un grande studio per grande intendo più di 11.000 pazienti arruolati, ha riguardato l'efficacia e la sicurezza preventiva degli N-3 PUFA nel post-infarto. Il risultato fondamentale è stata una riduzione della mortalità, in particolare della mortalità improvvisa, quindi quella che viene in attesa, che in generale dovutare i mie cardiache e quindi da una parte dimostrando l'efficacia e dall'altra orientando verso il meccanismo attraverso il quale l'efficacia si applicava, e cioè contro o normalizzando l'elettrofisiologia del cuore, quindi prevenendo le aree mie. Questo è il primo passo fatto ormai una ventina d'anni fa. C'è poi un secondo studio importante che lei ci diceva, qual è? Un secondo studio è altrettanto grande riguardo allo scompenso cardiaco cronico. Lo scompenso cardiaco è una malattia, meglio una sindrome, verso la quale confluiscono tutte le malattie del cuore croniche che non si riescono a interrompere o a controllare. La fase tardiva è quella dello scompenso cardiaco, vuol dire che il cuore non funziona più sufficientemente come pompa, pompa meccanica del sangue e quindi è necessario trovare farmaci che gliela ridiano in parte, in un modo o nell'altro. Abbiamo testato gli N-3 PUFA, sono circa 7.000 i malati arruolati, concludendo che c'era una riduzione in coloro che erano trattati, delle ospedalizzazioni per scompenso cardiaco e mortalità, per cui il farmaco è stato inserito nelle linee guida della società per cardiologia nei confronti della terapia dello scompenso cardiaco cronico. Ecco, alla luce di questi studi, alla luce anche dell'esperienza clinica internazionale di questi vent'anni, qual è oggi il ruolo clinico, il cosiddetto place in therapy di questi farmaci? Secondo l'interregolatorio nazionale, l'AIFA è retribuito, il che vuol dire che è ritenuto indicato, nel post-infarto, appunto come il primo studio che ho menzionato, dimostrava, in particolare nel primo anno dopo l'infarto, che è il periodo in cui più frequentemente ci sono problemi. Per quanto riguarda poi le aree cardiologiche non infartuali, gli N-3 PUFA hanno un'attività sul metabolismo dei grassi in generale, e dei trigliceridi in particolare, e ciò li abbassano. E quindi sono indicati per ridurre i trigliceridi nel sangue quando questi sono aumentati.